CERCAVO UNA RAGIONE 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 Buon pomeriggio ragazzi Buon pomeriggio a tutti Giovedì 22 agosto 2024 Rigorosamente in diretta su Twitch Per il caffè di Lai Bianconera Saluto Virmone Ciao Virmone Ciao Fabio, ciao Michele Saluto Michele Ciao Fabio, ciao Virmone, ciao a tutti Come stai caro Michele Come stai caro Virmone Come state? Benissimo, io bene Aspetta che devo cambiare Michele Va bene, ti aspettiamo Allora Salutiamo già subito le prime sub Grazie mille A chi? A Gaspar Gomezio Due anni con noi, ero in New York Mentre c'era Juve Como E ho rosicato che non riusciva a vedere una partita dopo tre anni Ci dice, grazie Juven Grazie Tiago Grazie mille a te Per la sub Poi Anto 23 mesi Grazie Juven Juve Juven Silenz Fa 17 mesi con Prime Benny Monaco Fa 32 mesi con Amazon Prime Ringrazio anche a questo punto Quella di Golosino Che è arrivata a 19 ore fa Ma noi non eravamo in diretta E quindi Grazie ancora Ragazzi Siamo a quota delle sub 351 Ne mancano una novantina Più o meno Una novantina per arrivare all'obiettivo Mancano otto giorni Diciamo che non sappiamo Quale sia più decisivo come forcing Quello di giuntoli A otto giorni Nella fine del mercato Di prendere tre calciatori O quello vostro Di farci raggiungere Le 442 sub Detto questo Andiamo a salutare Chi è in chat A partire dal reparto ABS Simon Samuele No Man Moody Hoodie Che ha una voce bellissima Io lo ricordo ancora Voce Mamma mia Da radio DJ proprio Alessio Pipicello Metcengino Grazie anche a Mixer Perché c'è Nippon Buongiorno Buongiorno a tranne a Marco Guidi La gazzetta Che ha fatto Marco Guidi Che è successo Va bene Vogliamo un nuovo direttore di LB Ma anche io vorrei un nuovo direttore di LB Credi Ciao Genso Ciao Emanuele Che aspettava la sigla Per farla ascoltare alla moglie Pensa un po' te Come siamo messi Ciao Valerio Sizaraticus Mivar No Man Mirxarp Metcengino Grazie Presente anche molto su Twitter Lo sappiamo Fefe Marijuana One Genso Poi chi c'è ancora Simoz Jack vs Game Questa roba di Sule È fantastica per Motta Di cui non ti muovi Nemmeno per 70 milioni Ma poi sono io Poi sono io Ciao Gianca04 Ma sarebbe brutto Un chiesa per Ansufati Eh A voi È rotto È rotto Ansufati Però Virmone Penso che ne sappia di più Lui è Informato su Barcellona Ma non stava al Brighton Era andato a titolo definitivo Al Brighton No no Era in prestito Era in prestito Quindi mo' è tornato al Barcellona E come sta messo Però non è che ha brillato È là Cioè Diciamoci la verità Io ho convinto che Sotto la guida di De Zerbi Poteva magari diventare Qualcosina Invece poi ho avuto appunto Come ha detto anche Miguel Anche problemi di infortunio O cose del genere Io non credo che Il Barcellona Comunque lo darà A titolo definitivo Io credo che Ansufati Sarà ancora uno di quelli Che daranno in prestito Eh Quelli che Quelli che vanno via Quelli che possono andare via A titolo definitivo Sono altri Giocatori del Barcellona Secondo me Ferran Torres Fa parte di questa lista Chiedo perché Non lo so Non credo sai Ferran Torres Non credo Magari Magari cioè Lui può avere mercato Però non so se il Barcellona Se ne priverà Io leggevo appunto Di Un paio di giovani Quelli arrivati dalla Masia Poi si parlava di Langley Di Christensen Langley Ecco Langley o Christensen Eventualmente Potrebbe Ecco E Christensen È un giocatore Che piace a Miguel Sono comunque due difensori centrali Allora È arrivato È arrivato a Barcellona Con Con tanti buoni propositi Io gli ho visto fare anche Delle buone partite Però gli ho visto fare anche Tante cappelle Poi partiamo dal presupposto Che comunque Il Barcellona degli ultimi anni È la roba che è stata Quindi Sì Va bene Magari meglio Che Meglio che proprio A cavallo del covid Come gestione societaria Però comunque hanno ancora Tanto tanto da fare E quindi anche giudicare Christensen Non lo so Però diciamo Dei nomi che sono usciti Siccome immagino Che Pubarsi lo terranno Di quelli in uscita Sicuramente Langley e Christensen Sono quelli che possono Tornare utili a noi Perché sono dei centrali Perché Rafinha Rafinha non è un giocatore Da Serie A Come direbbe Miguel Rafinha non è un giocatore Da Serie A Rafinha secondo me O rimane in liga O vai in altri campionati Ma non Non in Serie A Perché hai questa preferenza Per Christensen Che io non conosco Quindi descrivi un po' Questo profilo Perché tu dicevi Se per caso Il Barcellona Volesse aprire ad uno scambio Con Chiesa Prendiamoci Christensen Che Com'è questo Christensen Miguel? Perché è un difensore Che secondo me Ci sta bene Nella difesa Della Juventus In coppia con Bremer Secondo me Può andare bene È un difensore È un leader difensivo Diciamo così È uno che Riesce a Diciamo Nei suoi giorni migliori Perché magari nel Barcellona Il Barcellona Dove è stato impiegato Anche da centrocampista Proprio a rimarcare Comunque Le sue qualità Tecniche Le sue qualità Nell'impostare l'azione Le sue qualità Comunque con la palla al piede Se tu hai Se tu hai un parco Di difensori centrali Dove ci sono Bremer e Gatti Che comunque Non sono Dei registi Difensivi Ecco Sono degli stopper Vanno Sono bravi Nella Nella fase di non possesso Ecco Christensen Invece è un giocatore Che in fase di possesso Ti può dare Qualche garanzia in più E inoltre Ha quell'esperienza Poi non è vecchio Se non sbaglio Ha 25-26 anni Quindi Però ha comunque Quell'esperienza Che gli permetterebbe Di guidare La nostra difesa Io credo ancora Che la difesa Della Juventus Abbia bisogno Di un vero e proprio leader Che la guidi Soprattutto In determinate Situazioni tattiche Per cui i nostri giocatori Non sono mai stati allenati Precedentemente Quindi Se tu prendi Un giocatore Come Christensen Secondo me Aiuti Tiago Motta A Mettere nel motore Un nuovo tipo Di giocate difensive Ok Vedremo Se verrai accontentato Credo che sia molto difficile Però Mai dire mai Nel calcio ragazzi Allora Ringrazio un po' Di Daniele Quattro mesi Ciao ragazzi Non vi sembra impossibile Fare tre stenni Come dice Pedullat Tra poco ne parliamo Perché C'è Ce la discute Ciao Giuseppe Sei mesi con Prime Filippo fa trenta mesi Con Amazon Prime Quindi grazie a queste tre sabbi Raggiungiamo quota Trecentocinquantaquattro Grazie di cuore Ciao a James Ford Anziufati Ha donato il suo corpo Alla scienza Bene Molto bene Poi Ciao Villani Non salutarmi Ciao Ciao Lombardo Ciao Anubic Daki Sam Sull'inglese Forte l'atletico Ci dice James Ford Juventino Capitonino È arrivato col barcone Se ne torna con lo yacht Machino Lo so Poi Arrivata Un'altra battaglia De Lombardo Cancelo Eh magari Ma sta andando in Arabia Saudita Me sa Cancelo Sicuramente Non rimarrà dove sta Non lo so dove andrà Veramente Cancelo Su Cancelo Non ho letto niente Però Magari Però mi sembrano Quelle cose come Come se dicessi Mbappé Cioè Magari Certo 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 JJ Kamal Ciao ragazzi da Parigi Grazie mille Per il tuo Per il tuo affetto Siamo ancora È vera questa cosa ragazzi La serie A In Francia non ha ancora Un operator Un broadcaster Che trasmette i diritti Ed è un dispiacere È ricambiata la cosa Esatto Perché in Italia Non c'è nessuno Né Sky Né Dazon Né Eurosport Né Discovery Eccetera Che trasmetterà Rigan Sono le nuove frontiere Del calcio ragazzi Detto questo Poi però Virmone conosce Come dire Il Dazon Polonia Che invece trasmette tutto Tutto trasmette Il Dazon Polacco È la svolta Perché trasmette Veramente tutto Ragazzi Cioè proprio E anche col commento So col commento Anche in italiano Nonostante sia Dazon Polonia Sì E poi ci sono dei codici Che vi fanno anche vedere Le zine di Diletta Leotta Però Quelli Deve essere abbonato Plast Ma i piedi per Miguel I piedi di Parolo I piedi di Parolo E le zine Però Miguel erano piedi di Ducati Quindi di Parolo Insomma Di Parolo ricordo solo I quattro gol Se non sbaglio Contro il Pescara E io ce l'avevo Contro il Tampacalcio Io ce l'avevo in squadra Invece Pensa Io ce l'avevo contro Incredibile Ciao Samuele Ciao Guy Reb Ciao Jojo Ciao A chi A chi A chi A Tom Poi Andrea C'è C'è Rice83 Ciao Zucchero Filato Luigi Supertrump Basta con questi bianchetti In difesa Ci dissociamo Ciao Ciao il signor Petto Ciao Michele Chi parla di Cristian No C'è una trattativa Che ci siamo inventati A noi Michele Giuseppe Si si parla di Arial Per Cancelo Cancelo mi sembra Uno che non ha più Tanta voglia di giocare I giocatori del Barca E' vero questo Hanno ingaggi Che non sono Nei nostri parametri Esatto Purtroppo è così Tra l'altro Scusami tanto Virmone Ne approfitto Perché si parla Di chiesa Al Barcellona Però Non ho capito bene Sta roba Il Barcellona Deve far uscire Dei giocatori Per registrare Come funziona Io non capisco niente Allora io Guarda E' veramente complicata La cosa Perché E' come hai detto te Però io Poi non so Magari a questo punto Era una Una butade O Una fake news Io ho letto Che Dani Olmo Era stato registrato Però Mi sa di no No io ho letto Ieri sera Dani Olmo E' stato registrato Eh vedi L'hanno registrato Dicono Eh vedi vedi Lo hanno registrato E Praticamente Però deve ancora Uscire uno Prima di fare Un nuovo ingresso C'era anche uno Diciamo Non dei titolari Non delle prime linee Che sta uscendo Anche lui Magari in chat Mi ricordano il nome E chi non me lo ricorda Assolutamente Esatto Andato via Dani Olmo Fai Ecco esatto Fai Non so nemmeno come si pronuncia Che esatto Che sta andando al Rennes Grazie 17 maggio Quindi per fare entrare chiese Eventualmente Chi deve uscire questo Fai Esatto Perché appunto Gundogan è già uscito Poi si era parlato anche bravo Di Vitor Roche È vero È vero Alle P23 Si era parlato anche di lui E E quindi niente Secondo me L'offerta Vera e propria Ufficiale Non è ancora arrivata Proprio per questo Poi bisognerà vedere La prima La prima offerta Che faranno Perché comunque Stiamo al 22 di agosto L'offerta Se la fanno Penso che la faranno A questo punto Nel giro di pochi giorni E poi la palla Starà giuntoli Starà giuntoli Capire se accettare La prima offerta Del Barcellona O rischiare Arrivare fino all'ultimo Fino all'ultimo giorno Di Di calciomercato E poi magari Però se alternative Secondo me non ce ne sono Non ce ne sono Però Però Fabio Noi ieri dicevamo Che ne servono 12 13 15 15 Però magari possono Fa 10 più 5 Capito Sì no Quello lo possono anche fare L'unica paura mia È se loro Domani o dopo domani Si presentano Con 10 Tondi Ok E ti Devi dire cosa faccio Faccio 5 milioni Di plus valenza O Mi evito comunque Di Tenermi un giocatore Sul gruppone Perché poi Sta lì Cioè La scelta poi Sarà quella Sarà tutto in mano Di Giuntoli Ma io credo Sì tra l'altro è vera Questa cosa Essendo che sono passati Due mesi Il residuo Il residuo Non è più 14 15 Ma è di 12 Quindi Adesso La cosa importante E io ho i dati Alla mano Che ho preso Il risparmio Dell'ingaggio Esattamente Oltre al risparmio Dell'ingaggio La Juventus Vendendo diciamo A 12 In questo momento Ragazzi Siamo passati a 35 A 12 Aveva ragione Michele Alla fine Li regaliamo I cartellini I giocatori Ma purtroppo È la verità Vedete anche Di bala 3 milioni Ragazzi La Roma Pur di risfarsi Di bala E l'ingaggio Di bala Accetta 3 milioni Il calcio E il calcio Ragazzi Il costo annuale Questa è una cosa Molto importante Però Il costo annuale Di chiesa Ragazzi È 23 milioni 544 mila euro Vuol dire Diciamoci Pagarsi Un'annualità E mezzo Di Calulu E Copminers Capite che È importantissimo Che esca chiesa Anche a 12 milioni È vitale Che esca chiesa Questa cifra Vediamo Se verrà accettata Leggevo anche Negli ultimi Negli ultimi minuti Ma perché scusa Ma tu Aspetta Scusami Fabio Ma tu su cosa Lo stai calcolando Il costo a bilancio Di Copminers Cioè sulle cifre Che abbiamo sentito Stai calcolando 60 4 e mezzo Per 5 anni Per 5 anni Di contatto Saranno quelle le cifre Alla fine Poi Saranno 52,7 58 59 Però ragazzi 17 18 milioni Di costo annuale Sì esatto 17 milioni Di euro E ti chiedo Miguel Dal punto di vista tecnico Ne abbiamo parlato ieri Con Virmone Volevo sentire un tuo parere Ti faccio una domanda La di Pietro Ma chi è Da il Barcellona Che c'ha Zecca Perché Chiese un'ala Barcellona Gioca col 4-3-3 Sì ma tecnicamente È un gioco Da Barcellona È internazionale Ma non Da Serie A Sì Lo sappiamo Può essere internazionale Ma da Barcellona Il Barcellona è una squadra Che Io Ma lo dicevo anche Per Lewandowski Per me Questi qua Non sono buoni fit Con la cultura Del Barcellona Ma non perché Siano scarsi Lewandowski È un fenomeno Ma ci dicono anche Che questo Non è il Barça di Xavi Ma il Barça di Flick Dimmi un po' te Miguel Come si sposa Chiesa Al Barça Guarda Tu hai ragione Perché Su Lewandowski Hai ragione Lewandowski Veramente Non Non ci azzecca niente Con la storia Del Barcellona Barcellona Non ricordo Grandi giocatori slavi Nel Barcellona Sicuramente Però Chiesa Secondo me Ci può stare bene È un'ala Che non ha La tecnica Da Barcellona Forse Barcellona Ti aspetti Quel giocatore Bravo Soprattutto Nel dialogare Con i compagni Chiesa Magari Non è proprio Un giocatore Per quel motivo Lì Io non riesco A capire Il fit Diciamo Ma anche Per esempio Anche Leao Si parla di Leao Non credo Che andrà a Barcellona Ma Leao Col Barcellona Col gioco storico Del Bar Va bene Che non lo fa più Ma che c'ha Zecca Sto Leao Il Barça Però vabbè Secondo me Comunque Chiesa Può fare bene A Barcellona È un Barcellona Diverso Da quello Di Guardiola Ma anche Quello Di 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 Cryf È un Barcellona Che si sta evolvendo Meno male Hanno preso Questo nuovo allenatore Che L'hanno preso Apposta Penso Per Evolvere E cambiare Un po' Non voglio dire La cultura Ma quantomeno Il modo Di scendere In campo Perché Rimanere Attaccati A certe tradizioni Secondo me È deleterio E Chiesa È un calciatore Moderno È sicuramente Un giocatore Che ti dà Degli strappi Io non credo Però sia superiore A Yamal E Rafinha Per me Proprio non lo è Yamal Però è bestemmia Secondo me Allora Yamal sicuramente no Con Rafinha Diciamo Sono giocatori diversi Però Rafinha Secondo me È più bravo Nel dribbling È più veloce È un tiro migliore Insomma Rafinha per me È un top class Chiesa Però Può dare Tanto Secondo me Al Barcellona Anche se non partisse Da titolare Può Può riprendersi Ecco Al Barcellona Può Può resuscitare Diciamo così E io me lo auguro Sinceramente Io non so voi Come Come la prendereste No no Io sono un tipo Nazionale Vorrei ricordarti Quindi io sono fiducioso Io spero Che vada al Barcellona Piuttosto che all'Inter Io spero Che vada al Barcellona Perché sai Se andassi all'Inter Sarebbe Sicuramente Non è un passo in avanti Secondo me Secondo me è un passo indietro Però diciamo Che sono sullo stesso livello Mentre se va al Barcellona Significa riuscire comunque A fare Un ulteriore scalino Nella sua carriera E quindi Non perdersi Per esempio Se fosse andato alla Roma No? Si parlava della Roma Andare alla Roma Sarebbe stato veramente Un downgrade Per me è perfetto Invece però Giochi Sei la star Fabio Andare alla Roma Significa Che dopo la Roma Vai in Arabia E lo abbiamo visto In questi giorni È difficile Che poi vai alla Roma E poi riesci a ritornare Secondo me Andare alla Roma Sarebbe stato l'inizio Della fine per Chiesa Non so se Andare al Barcellona Significa effettivamente Come ho detto prima Rinascere Però È un'ulteriore Opportunità Che ha E mi auguro Che sappia coglierla Grazie Giuse Per la salva La numero 350 5 mesi Il 5 diciamo Il numero fortunato Di questo Di questo ragazzo Faccio una domanda A Virmone Ma secondo me Chi è Se è un giocatore Che se dovesse andare Al Barcellona Va per rimanerci O Qua a gennaio Mal di mancia E a giugno Voglio tornare in Italia Voglio tornare Perché Questa è la domanda Che mi faccio Immagino che se ci andrà Firmerà un contratto Almeno di tre anni Lo estende Questo contratto Con il Barcellona Ma guarda Noi su Noi Con Chiesa No Nel corso Dei suoi anni Alla Juve Abbiamo sentito Un po' di narrazione Che ce lo faceva Passare Appunto come Quello che magari Legava poco Coi compagni Quello che Faceva un po' Ce l'hanno Descritto così Come Come il Il viziatello Nelle intercettazioni Che uscirono Durante l'affare Delle plusvalenze L'abbiamo citato Spesso Che Rubini Appunto parla Parla di Chiesa Del suo entourage Dicendo Questi hanno pretese alte Qua ci rimangono poco Allora Io sono d'accordo Con Miguel Cioè Se tu vai alla Roma E ti fai due o tre anni Alla Roma In cui stai lì Galleggi Quinto Sesto posto Europa League Conference League Poi vai in Arabia Miguel ha ragione Visto l'età che ha Anche no Perché Chiesa se non sbaglio Ha 27 anni Fra tre anni Ce n'ha 30 Quindi Cioè Se ti fai tre anni In una squadra Così Da sesto Settimo posto Europa E Conference League Io non so poi Veramente che tipo di ambizioni Puoi avere poi Per il finale di carriera Se non appunto Scappare in Arabia Il Barcellona Potrebbe essere Una soluzione valida Potrebbe essere Una soluzione Che per lui Sia funzionale Anche per Riprendersi Il punto è Secondo me È solo ed esclusivamente Di testa Perché Se Come Cioè Se è vero Come ce l'hanno raccontato Cioè Uno che non va d'accordo Eccetera eccetera Se è vero Come abbiamo sentito Nelle intercettazioni Che il suo entourage È un entourage Che ha le dirigenze Scassa al cazzo Questo potrebbe essere Un ostacolo Perché comunque Al Barcellona Non ci vai a fare il galletto Perché tu sei un giocatore italiano Che viene dalla Juventus Che non ha mai giocato in Liga Quindi non può E non sei il palone d'ora uscente Quindi non puoi andare al Barcellona A fare il galletto Lui deve andare al Barcellona E stare con le orecchie basse Stare muto Allenarsi Come deve Giocare Quando deve giocare Ma sempre tenendo la testa a posto Se fa così Lui ha tutte Fisico permettendo Tutte le carte in regola Per rilanciarsi Ed è quello che gli auguro Però Dobbiamo Lo scopriamo solo vivendo Quello che succederà Se ci va tra l'altro Se ci va Sì Non è che possiamo Cominciare già a dire Farà bene Farà male Flopperà Non flopperà Secondo me lo scenario è questo Ci sono Le condizioni Per fare bene Ci sono Un paio di ostacoli Che potrebbero impedire A Chiesa Di fare bene Ma io gli auguro Comunque Di ripigliarsi E di tornare Il giocatore Che era Qualche anno fa C'è questo messaggio Mi fa un po' ridere Perché forse sono stato Uno degli unici In Italia Non ho letto tutto il libro Però fece un libro Cassano Tanti anni fa Non so se ve lo ricordate In cui Le sue diciamo Cassanate Diventavano frutto Di orgoglio personale Andre ci scrive Chiesa fa la fine Di Cassano Corriere a Madrid In panchino Due presenze E poi lo rimandano a casa Uno mi ricordo L'imitatore spagnolo Di Cassano E anche quello Di Guida al Campionato Canali media Le patatine Esattamente Ma era anche Quella roba lì In Spagna C'era l'imitatore di Cassano Che era anche Gordo Diciamo E soprattutto Nel libro Cassano Io non ho letto tutto Perché leggo anche cose Più interessanti Nonostante faccio il deficiente In live Guardo film Anche più interessanti Le cene panettoni E leggo libri più interessanti Di quello Di Cassano Però esatto Veniva sopra il gordo E nel libro Cassano raccontava Che a Madrid C'era andato Per fare questa cosa Qui la notte Soprattutto Quando la squadra Era in trasferta Lui si faceva portare All'una di notte Dei cornetti In stanza E divideva Diciamo la stanza Lo scriveva proprio Nel libro Esattamente James Ford È sempre sul pezzo Queste cose Io e James Ford Siamo un'unica cosa Si faceva portare Diciamo Nelle sua camera D'hotel E uso il plurale Avvenenti signorine Ma non a fare All'amore Ma a mangiare I cornetti Caro Virmone Caro Miguel Pensate Questa fantasia Di mangiare Assieme a questi avvenenti Davvero meridionale Direi Esatto Ognuno ha le sue perversioni Esatto Esatto Chiediamolo anche a Kraft Kraft Lei ha questa perversione Col cibo Magari Anche lei è un uomo meridionale No mi manca Questo mi manca Quale perversione hai? Non parliamo Lo dico Abbonatevi E lo dico sul disco Allora sono d'accordo Allora sono d'accordo Mi fai il sub goal Il sub goal Fabio Il sub goal Per le quantità sessuali Di Kraft 30 sub oggi E su Discord Vi dice quanto Sì Mi dice quello che Come è Kraft Essendo capisce Chissà quello che Quello che ha in testa Chissà Chissà Le robe banali Non sono per lui Grazie per la Sars Grazie per la Ti faccio la stessa domanda Comunque scusami C'è un po' questa Questa cosa Dei calciatori italiani All'estero Che fanno male Così a prescindere È un po' È un po' la verità Però è anche un po' la verità Però Kraft Ma perché Ma non è te Ma mi trovo Dipende da tante cose Allora Scusate Non ci troviamo a livello storico Mi viene in mente Gianfranco Zola Che al Chelsea è ancora considerato Una divinità Di Vogliamo mettere Di Canio Bassa Premier Chi è che all'estero Si è consacrato Come uno Tra i primi 15 20 giocatori Del mondo Chi Marco Verratti Ragazzi ha fallito Ebbè Oddio Ebbè 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 Ragazzi Ha fallito No dai Ha preso un sacco di soldi Ha preso un sacco di soldi Va bene Però Non è che Alla fine No dai Non puoi dire Che ha fallito Fabio Veramente Per me Per me Poteva essere Molto più forte Di quello che Però c'è C'è un fatto C'è il fatto Che Il campionato italiano Per Per un secolo Di storia Il primo secolo Di storia Del calcio professionistico È stato Il campionato top Se non al mondo Il secondo Insieme a quello Che ne so Quello inglese Probabilmente Quindi Gli italiani Non è che avessero Molta scelta Per andare a giocare All'estero Oggi Che Magari Non è più Come un tempo Allora Vedi I calciatori italiani Che vanno all'estero Negli anni Ottanta Novanta Il calciatore Forte Italiano Restava in Italia Non è che andava In Germania In Francia In Spagna Quindi Ci fanno degli esempi Scusatevi Vieri Vieri Spagna È dato un anno E poi è andato in Italia Perché gli offrivano Un sacco di soldi Ho capito Ma è lo stesso discorso Perché Vieri Era uno dei giocatori Più forti Che Era in circolazione In quel momento storico Viene da giocare in Italia Non è che rimane in Spagna In cui un campionato In cui prende meno soldi Ha meno possibilità di vincere Tra l'altro L'Atletico Madrid Non al Real Quindi Zambrotta Barciano ha fatto così bene Bah Qua Virmone Mi deve intervenire Cannavara a Madrid L'hanno spedito via Allora Cannavaro Torna Su Tony Sono d'accordo Su Tony Sono d'accordo Avete ragione Su Zambrotta E Cannavaro Un po' meno Un po' meno Sinceramente Grifo Oggi è uno dei giocatori Più forti Del Friburgo Per Vito Rossi È stato al Villareal Uno giocatore Grifo No perdonami Grifo È uno che Ha anche Immagino No È il papà Che si è trasferito Con la famiglia Da ragazzina Non è proprio Quello Non è Calafiori Che è il romano De Roma Sansone E Spagna Lo stessa cosa No ma C'è nessuno Fabio Chiaramente Non devi andargli A prendere Negli anni 90 Perché negli anni 90 È chiaro che i giocatori Venivano in Italia A giocare Gli spagnoli In Italia Più che viceversa Ma la stessa cosa Gli inglesi Gli inglesi Perché non fanno bene Ma perché i giocatori Inglesi forti Stanno in Inghilterra Perché hanno il campionato Migliore al mondo Probabilmente Poi Bellingham Va anche alla Madrid Gioca bene Alla Madrid Beckham Alla Madrid Va bene Intanto c'è un'ufficialità Posso dire A me mi dispiace molto Legge Allora La Juventus Ha raggiunto Romeo Agresti L'accordo con l'entourage Di McKennie Fino al 2026 Quindi la conferma Della voce La settimana scorsa Va bene ragazzi Vediamo quello Che farà la Juventus Prego Ha vinto lui O abbiamo vinto noi Abbiamo vinto noi Ha perso il calcio Vai seriamente Abbiamo vinto tutti Anche secondo me Hanno vinto tutti Perché Convincetemi Per favore Rincuoratemi Perché Lui 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 ha chiesto Lui ha chiesto Uno sproposito Che non gli è stato dato E quindi Da quel punto di vista Lì abbiamo vinto noi Perché gli abbiamo dato La metà di quello Che chiedeva Praticamente E quindi abbiamo vinto noi Lui Non voleva andare via Ed è rimasto E quindi qua ha vinto Secondo me Hanno vinto Veramente entrambi Poteva Poteva Potevamo evitarci Sta sceneggiata Sì Però È andata così Però scusate Guardate che La vittoria È un rinviare il problema Tra un anno Tra un anno siamo ancora qui Secondo me Però Sì ma tra un anno McKennie Io non credo che sia il giocatore Che è stato Negli ultimi tre Fabio Il problema di McKennie Al contrario di Che ne so Di Di Arthur O di Di Costi Cioè va Costi c'è l'esempio perfetto Il problema di McKennie Non è lo stesso Di Costi Costi Non è un giocatore Scarso Costi è un giocatore Che tecnicamente In questa Juventus Non serve Sì Per la idea McKennie è un giocatore Che in questa Juventus Ci può stare Però aveva la situazione Del contratto Un po' in bilico Nel senso che doveva rindovare Lui chiedeva un sacco Evidentemente I soldi che lui voleva Non glieli hanno offerti Altrove Ha detto Sai che c'è Io accetto l'offerta Della Juventus Vittoria della Juventus Da questo punto di vista Perché si trova Un giocatore Utile Abile Arruolabile Alla cifra che voleva lei La Juventus Va bene Va bene Leggiamo la chat Poi chiedo A Michele Ha vinto Ha vinto la Juve Lo stesso discorso Vale per chiesa Perché se chiesa Se chiesa accetta Hanno vinto tutti Al Barcellona Hanno vinto tutti Veramente hanno vinto tutti Ok Ma se domani Se domani Chiesa si sveglia E dice Ma sai che c'è Io accetto 4 milioni Della Juventus Ma secondo te La Juventus Non lo rinnova? No Ti arrivo a dire no Perché per chiesa Mi è stato detto Esplicitamente Ragazzi Poi potete anche Non credermi Che non è solamente La questione contrattuale E non è nemmeno La questione Quella fisica Allora ragazzi Non tergiver Chiesa Sta sui coglioni Veramente A quasi tutti Non voglio prendervi in giro Non sto nemmeno Facendo il democristiano Chiesa Sta sui coglioni A metà spogliatoio A metà dirigenza Non so manco Se sta simpatico Al papà Ma credo gli si A questo punto Perché Onnish Carrafone È bella mammasoi Dicevano E anche al papà Mi dispiace Tra l'altro Perché sono un fan Credo pochi Rispetto agli altri Centrocampisti Quando dico Che hanno vinto Tutti Io però mi riferisco Di più A McKennie Ovviamente A noi tifosi A Tiago Motta Però forse Non tanto A Giuntoli Perché secondo me Giuntoli Se ne voleva liberare Di McKennie Il fatto che Adesso Venga ceduto Miretti Secondo me È perché Non è stato ceduto McKennie Io credo Che Quella posizione È lì Perché credo Che alla fine McKennie rimanga Per fare Non Il Uno di due Se immaginiamo La Juventus Col 4231 Lo immagino Come vice Copminers Quasi da Trequartista Dove Aveva provato Contro Norimberga Miretti Io penso Andrà al Genoa In questi giorni Miretti Probabilmente Andrà via Andrà al Genoa In questi giorni E io credo Che Ci sia stata Una modifica Nelle gerarchie Non riuscendo Giunto Di avvendere McKennie Hanno detto Guarda Al posto Quest'anno Perlomeno Al posto Di Miretti Il vice Di Copminers Sarà McKennie Miretti Lo mandiamo In prestito Però in questo modo Riusciamo a liberare Un posto Nella rosa Quindi diciamo Sono venuti un po' A compromessi Tia la società Lo stesso allenatore Il giocatore E credo che comunque Sia la soluzione giusta Io Come ho detto Già in precedenza È inutile Impuntarsi Con i giocatori Bisogna Venire a Compromessi Con tutti Io sono anche Dell'opinione Che è stato giusto Il trattamento Riservato a Scesni Tu non riesci A risolvere La situazione Prescindi il contratto L'idea La buona uscita Compromesso Perché È inutile Portare avanti Certe situazioni McKennie Come dice bene Craft È un giocatore Che Secondo me Sarà utilissimo A questa Juventus Credo che non sarà Ovviamente Uno dei titolari Però È un giocatore Che può dare tanto Tra l'altro Anche in diversi ruoli Perché poi McKennie Ha dimostrato Comunque una certa Duttilità Nello scorso Campionato Quindi In conclusione Io dico che Aver tenuto McKennie È stata una scelta giusta E adesso vedremo Cosa succederà L'anno prossimo Dipenderà molto Dal campionato Che giocherà McKennie Però io sono fiducioso Sono felice Di aver tenuto McKennie Va bene Va bene Pensate che anche Con De Sciglio Rescinderanno Se entro il 31 agosto Non ci sarà Pesa anche poco Warrior Poet Quindi Eventualmente Eventualmente Ma poi alla fine L'obiettivo Con McKennie È fare in modo Che Tra 12 A giugno 25 Arrivano a squadra E dice Ma sai che c'è Tutto sommato McKennie Li va A questi 18 milioni 15 Quanto sarà Quanto sarà Non vedo un futuro Da qui A 3-4 anni Per McKennie Vedremo 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 È vero che McKennie È uno chef Della società In che senso Uno chef Della società C'è uno personale Che è un nutrizionista Magari Vabbè Rabbio Posso dire Questa cosa Mi triggera Non la domanda di Simons Mi triggera Vedere Virmone Lui in barca Perché posso dire Io qua sono molto Mi triggera Centrocampista più forte Della Serie A Ricordiamolo Perché qua Bisogna sottolineare Che c'è gente Che diceva Che era uno Dei centrocampisti Più forti Della Serie A Ora Io non ho Una bellissima Opinione Della Serie A In generale Ma se Uno dei centrocampisti Più forti Della Serie A Al 22 agosto Sta ancora in barca Forse qualcuno Ha sbagliato Le valutazioni Forse No non solo Non solo Ma a me la cosa Che mi infastidisce E qui veramente Divento quasi Un Marco Rizzo Un Bersani Eccetera Non mi far guardare male Craft Io so che tu sei Di tendenza più liberale Lo so Marco Rizzo ci vuole poco Marco Rizzo Mi sta sulle palle Mi dà fastidio Vedere questo Che mentre tutti Si provano A trovare la squadra Eccetera Questo fa Le storie In barca Ora io non sono Uno spione di Me ne frega niente Me le fate vedere voi E io non seguo Non seguo i calciatori Su Instagram Ecco ve lo volevo dire Non seguo nessuno Io seguo le ragazze Su Instagram Anche belle Che tra l'altro Sono solamente sogni erotici Esattamente Esattamente Non seguo calciatori Però quando voi Mi linkate Quella roba Di Quella roba Di Rabbio Che sta in barca Io mi incazzo Perché Perché secondo me È proprio uno schiaffo E uno schiaffo Alla professione Permettetemelo Perché Porca miseria Sei stato baciato da Dio Che hai un fisico Importante da calciatore Anche una discreta Qualità tecnica E cavolo Trovate una squadra Siamo al venti Soccanzia di campionati Santo Dio Ma perché Tu devi postare Ma quale squadra Vede che tu sei in barca E manco Per esempio Molti Si allenano da soli Che non trovano squadra Si allenano da soli Per dire Oh sono in forma Prendimi No questo Se fa le foto In barca A me Una bestemmia Mi sembra Non so Qual è la vostra opinione Su questa cosa Tra l'altro è stato Vice capitano Della Juventus E questo secondo me Che è ancora più importante Cioè nel senso Lui portava Questa mentalità Da capitano In campo Perché Poi magari Per qualcuno Può essere un salto Pindarico Troppo Troppo grande Però quella È la mentalità Di Rabiot Rabiot anche in campo A me non mi ha mai dato Lo spirito Di un capitano È sempre stato Un po' indolente Anche nel modo Di interpretare Certi azioni Quindi Secondo me È stata quella La vera vergogna Avere Rabiot Come capitano Sul campo Tra l'altro Ragazzi Pensate a questa cosa qui Gli ultimi allenatori Leader della Juventus Parliamo Aleksandro Senza squadra Rabiot Senza squadra Allegri Senza squadra Pirlo L'ex allenatore In serie B Fate i conti Fate i conti Cosa cazzo Eravamo diventati Poi Il mercato Ti dice quello che sei Questa è la verità Cesni Senza squadra E Cesni Per me È uno dei migliori È il meglio Di questi qui Per me vale Veramente Ancora Che le nebo non Ci sono ritirati Dai Eccetera Sarri Quello pure Senza squadra Parliamone Parliamone Sono le ultime scelte Della gestione Andrea Agnelli Quindi Facciamo anche Mercato Mercato Non c'è Per questo tipo Di elementi Eventualmente Quindi Rabiot Fai foto sulla barca Ramsey L'ultimo Ramsey Dove gioca Rabiot Che fine ha fatto Ramsey Bu Bu Danì Ecco Lo sapete Che sta provando Oggi Ho ricevuto Qualche messaggio Dalla continassa Perché oggi La squadra Si è allenata Tra poco Vedremo anche Un video di Agresti Si è allenata Con il pubblico C'è stato L'allenamento Aperto al pubblico Udite Udite Danilo Ancora una volta È stato fatto Fuori dalla formazione Dell'allenamento Le titolari Perché ha giocato Con Stavo Esattamente Ha giocato Con Savona Con Savona Titolare Cabal Bremer Cambiaso Non Credo che sia un caso La condizione Gioca i Reich Però Cari ragazzi Qua mi sembra Che qua c'è qualcuno Che non guarda in faccia Nessuno Oppure se sei Brasiliano Capitano Leader Emotivo Che ne pensate Di questa cosa Birmone Kraft Miguel Ma sarà panchina Danilo Secondo me No Fabio Secondo me Su Danilo Conta Conta quello Che abbiamo detto Anche dopo la partita I brasiliani Probabilmente Sono tornati Non completamente In forma Dalla Coppa America Infatti appunto Contro il Como Abbiamo visto Douglas Lewis Che ha giocato poco Danilo Che non ha giocato E Bremer Che della batteria Di difensore Era quello Un pochettino Più imballato Ora Io Non voglio Non voglio Già lanciarmi In ipotesi Come hai fatto te Io Quindi tipo Non guardi in faccia Nessuno Danilo Mi fai schifo Danilo Non giochi Io credo Io credo Che Sia più ancora Una questione Di forma Ma penso Che Danilo Giocherà Poi la domanda Era se resterà Capitano Se la domanda Resterà capitano Ti dico di no Perché se comunque Nella filosofia Di Tiago Motta C'è che pure La fascia Deve girare Non avremo Il Danilo Capitano Come abbiamo avuto Negli ultimi Negli ultimi Due anni Detto questo Magari Non la prossima Partita Non quella Con l'Ellas Però Ecco Se anche Alla terza Se anche Alla terza Non si fa Neanche un minuto E allora Oggi Allora A quel punto Magari Ce la facciamo Una domanda Su Danilo Diventa una scelta A quel punto A quel punto Sì Se anche Dopo l'Ellas Non giochi un minuto Non ci credo Che non sei ancora Entrato in forma Ecco Quindi potrebbe essere Un discorso Prettamente Tecnico O tattico Per ora Non voglio Sbilanciarmi E ti dico che Secondo me È questione Di forma fisica Intanto Ringraziamo ancora una volta Il Depensatoio Che ci ha scritto Che ci ha mandato La sigla Accorciata su Instagram Virmone Poi mi raccomando Per favore Occupatene te Appena puoi No Fatela Fatela girare Da Edoardo Perché io non sono a casa Quindi non ho gli accessi In automatico Su Instagram Ok Perfettamente Me la faccio girare da lui Craft Sto Danilo Che non gioca In formazione No Secondo me Già titolare Titolare Non lo so Ma giocherà Mi interessa Se ha un ruolo Importante In questa squadra Non è che mi interessa Se fa dieci Non ne frega Sì Perché pensi Perché sei convinto Di questo Perché Non vedo argomenti Per il contrario A parte che Zero minuti Contro il Como Oggi Ancora una volta Ma pure Da class Luis Dieci minuti Contro il Como Che c'entra No Secondo me Giocherà Sarà solo una questione Di Di Mettersi in carreggiata Con il nuovo Corso Ok Poi Se da qui Se da qui A tre Quanti anni ancora Di contratto Due Un Scadenza Se non sbaglio Mi sa che uno Mi sa che uno Ma non voglio Non voglio Non ricordo 25 Ragazzi aiutateci Uno più Eh no Mi sa che è legato alle presenze È legato alle presenze Come Alessandro Ma quest'anno Deve arrivare alle presenze Ah ecco No Vedete Allora Se già C'è il discorso Delle presenze Allora già cambia Tu dici che Tiago Motta È giunto Li stanno cucinando Guarda Di nuovo automatico A 50 Scrivono in chat Vedi Ok Occhio allo chef Occhio allo chef Eh no Allora vedi Se già è così Allora già inizi a cambiare Un po' di cosa Perché Ha un ingaggio pesante Danilo Non ho comunque Più di 6 e mezzo Se non sbaglio 6 Credo 5-6 5-6 No secondo me di più Comunque Già così cambierò un po' di cose Perché un altro anno 5-6 milioni Non glielo danno Ok ci sono due sub E poi vado da Miguel Voglio sentire anche da lui Cosa Allora 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 Piuttosto Fabio Una domanda che faccio io a voi Vi introduco Io vi ho detto la mia su Caluro Nel senso che a me piace Però come terzino Come centrale Voglio vederlo Dove giocherà Ne possiamo parlare dopo Perché dopo voglio parlare un po' di Caluro Ne parliamo dopo Voglio andare Con Miguel No perché Si unisce Il discorso Danilo Si ma Su Caluro Poi ci sono delle cose da dire Miguel Danilo sarà la prima Di vittima Oddio È la prima scelta forte Di Tiago Motta Se parliamo di veterani Senza i superi Molto dipenderà da Da come andrà Dall'andamento della stagione Però io credo che Delle valutazioni su Danilo Siano state fatte Allora io L'ho guardato un po' in Coppa America Ed è stato veramente imbarazzante Lo ricordo Nella difesa a quattro Secondo me Non c'entra proprio niente Nella difesa a tre Da braccetto Sai Ci può ancora stare Da centrale Forse Da centrale di sinistra Ti può dare qualcosa Però Secondo me Tiago Motta Nelle In queste settimane E soprattutto Nelle prossime Si accorgerà Che Danilo L'ho un po' più circolare D'altri livelli Ma non è che Se ne è già accorto Questa è la domanda Di Giulio Non so se se ne sia già accorto Perché sai Comunque è arrivato da poco Quindi quello che dice Firmone È giusto Magari Può dare La spiegazione Che Non si è in forma Però secondo me Non è quella la spiegazione Secondo me si accorgerà Che la forma fisica È un dato relativo Secondo me È proprio il calcatore Che non è più adatto A giocare A quei livelli E soprattutto A quei ritmi Che richiede Tiago Motta È un giocatore Che sbaglia Sia tatticamente Sia tecnicamente Lui che in questi anni Ha fatto valere Soprattutto Il suo fisico No? Però Secondo me Con gli anni Anche quello Secondo me Sta Sta degradando Diciamo così Quindi Quindi secondo me Quest'anno Giocherà poco Io Ma non perché Vuole essere mandato via Perché Secondo me Anzi Tiago Motta Secondo me Lo renderà comunque Un elemento importante Dello spogliatoio Ci sono state Quelle squadre Non so che mi ricordo Un Marsello a Real Madrid Che non giocava mai Però comunque Era un elemento importante Dello spogliatoio Se non sbaglio L'importante è che siano leader Anche fuori dal campo Perché per esempio Michele Su sta cosa Io sono d'accordissimo con te Però noi Negli ultimi anni Abbiamo avuto leader Che erano leader Quando giocavano O presunti tali Quando poi Il loro posto Ieri è in mente Patrice Bra Che per me Era Inizialmente Il leader Carismatico Appena perde Il posto Il titolare Che di fronte A un Alexandro Che era straripante Nei primi anni Nella Juventus Chiede la sessione E allora Che leader sei? Ti chiede No ma guardi Mi auguro invece Che Tiago Motta Lui Si è vantato Di essere molto sincero E diretto E mi auguro Se effettivamente Questa è la valutazione Che fa di Danilo Perché magari Ha ragione Virmone Ed è solo una cosa fisica Però se veramente Fa la valutazione Che ho dato io Di Danilo Spero che sia Sincero E diretto E le dica Guarda Tu quest'anno Giochi poco Però ho bisogno Della tua personalità Del tuo carisma Della tua intelligenza Perché mi sembra Anche una persona Abbastanza intelligente Per tenere unito Ciro Ferrara Ciro Ferrara Per Marcello Lippi Al Mondiale 2006 Una roba del genere Certo Certo Ma infatti Volevo chiederti questo Virmone Perché Tipo di me lo ci chiede Ipoticamente Farlo fuori Potrebbe avere Ripercussioni sul gruppo Cioè magari Una parte Va con Danilo Ma è così carismale Chi è Danilo No ma io invece Spero che Tiago Motta Lascio rispondere Virmone Si interagisca Con Danilo Proprio per evitare Questo tipo di ripercussioni Ok Virmone che la pensi Ma guarda Ma non vedo perché Danilo Ma Danilo stesso Perché dovrebbe Chiedere Chiedere La cessione O il prestito A gennaio Sei comunque In una squadra Che ti paga bene Sei comunque In una squadra Dove se fai Il 50% Delle presenze Hai un altro anno Di contratto E può succedere Speriamo di no Però se si facessero male Bremer e Gatti È ovvio che poi Danilo Il 50% Delle presenze Le fa Quindi non Non credo Che sia un'operazione Da gennaio Credo che sia più Un'operazione Da giugno Dell'anno prossimo Cioè Non ti è scattato Il rinnovo Guarda che noi Non ti vogliamo Rinnovare E Danilo Poi si troverà Una squadra A quel punto Perché dicevano bene In chat Sai Giuntoli Ha davanti a sé Quattro anni Ancora di lavoro Motta Motta tre anni No? Gli abbiamo fatto? Sì Eh Giustamente Perché ti devi mettere A lavorare Adesso non mi ricordo Di chi era il commento Però giustamente Perché ti devi Concentrarti Su un over 30 Che quando tu Sarai all'apice Del tuo ciclo Avrà altri tre anni Sul groppone E sarà ancora Più vecchio Ancora più lento Ancora E poi cosa fai appunto Lo rinnovi Cioè mettiamo Mettiamo Che per qualche strano motivo Dovesse scattare Sto bonus E quindi lo rinnoviamo In automatico L'anno prossimo Poi lo fai giocare Gli devi fare un altro rinnovo Come fai? Ti ritrovi un altro peso in casa Quindi no Io non vedo Una cessione a gennaio Per Danilo Lo vedo più Come Il Sai Ce l'avete presente Il meme Quello con Splinter Che c'ha le piccole tartarughe ninja E poi le tartarughe ninja Cresciute Con Splinter Tutto vecchio Ecco Una roba del genere Cioè Sai quando si diceva Come quando arrivava Rugani Che si diceva Che Chiellini e Barzagli Gli facevano da chioccia No? Sì Queste cagate qua Più probabile Che abbiano fatto Un ragionamento del genere E magari gli hanno anche già detto Guarda che te Il 50% Delle Delle partite Non le giocherai Magari gliel'hanno anche già detto E quindi A questo punto Sono tante partite? Sì Sono Almeno 25 partite Però Io credo che Noi Anche la chat La community Non si debba più Sorprendere Se nel progetto Di Tiago Motta Vedremo Savona Anche in una partita Importante Vedremo Rui Io non so se Io ho fatto una domanda Sì Io ho fatto una domanda Relazionale Oggi Per esempio Riguardante Craft Tu che segui magari di più Me lo saprai dire Se ci sono per esempio Attaccanti Interessanti In next gen Che io non Conno Ragazzi non seguo tanto La next gen Ve lo devo dire Perché per esempio Mi immagino Che io Milik Non me lo vedo Alla Juve Anche se resterà Alla fine Non è nel sub È dentro È dentro il progetto Io non me lo vedo Milik gioca Alla Juventus Con Tiago Manco la partita Guarda Ti rispondo So che non ti piace Questa cosa Però ti rispondo In questo modo Io Milik Al fantacalcio Lo chiamo Come quinto Slot Perché il tuo Fantacalcio È fatto dai casi umani Facciamo Un fantacalcio Di casi umani Con le regole Le regole Bizzarre Del fantacalcio Di cascita L'attaccante La pernacchia Prende il bonus Questo è il fantacalcio Tuo Che il fantacalcio È Bonus Bonus pernacchia Fa la pernacchia In campo Bonus più tre Comunque per dire Per me giocherà E se giocherà Farà bene Ma perché faranno bene Tutti Non riesco a vedere Un giocatore Che guardo E ti dico Ma questo qui Non c'entra niente Ma fisicamente Allora parliamo fisicamente Milik Ti sembra un giocatore Che può incidere Nel calcio Che vuole fare Tiago Motta Ma non perché Milik è bravo Milik per me è bravo Non ce la fa proprio A livello di ritmi Secondo me Non ce la fa più Non sta in piedi Se mi dici Se mi dici Che fisicamente È in marcia Ok Ma quando gioca Perché non dovrebbe fare Ma poi scusa Tante partite per l'infortunio Quello sì Ma Fabio Primo turno di Coppa Italia Juventus-Empoli Milik non gioca Ma come gioca pure Danilo Sì ho capito Ma parli di una partita Ragazzi Sì Di un esempio Di tipologia Di partita Ma pure Scusami Magari contro il Como Adesso Vlaovic Non l'aveva segnato Quindi magari Lo tieni in campo Ma Che ne so Al Juventus-Lecce Te la butto lì Tre giorni prima Hai la partita con l'Inter Butto lì Non so il calendario Ha risposto Simon per me Secondo me È molto più facile Che ci mette Ma ti dico di sì invece Ti dico di sì Non lo so Un ultimo turno Gli ultimi due turni Di Champions Dove sappiamo Magari che siamo Già in zona Playoff Cioè Tra la ottava E la ventiquattresima Non se le fa Una partita così Una partita Le ultime due partite Di Champions Che magari Sono inutili Se ne fa Dai Ma non stiamo parlando Di questo Noi stiamo parlando Di un attaccante Di riserva Che deve giocare Anche delle partite Importanti Penso che stiamo parlando No Io non penso Che Milik Farà partite Importanti Se la domanda È questa Vi rispondo Di no Per me Non lo so Esatto Per quello Secondo me Per quello Sta spingendo Sul Niko Gonzales Io resto convinto Che lo vedremo Anche lì Resto convinto Che lo vedremo Anche da attaccante Proprio Attaccante Che vedremo Come piace Che vedremo Ildiz Magari In quella posizione Ma Ma Milik Ma non ripeto Non è cattiveria Non è Il giocatore Per me Milik È bravo Milik Ma guardate Gioca da fermo Gioca da fermo Milik In una squadra Che deve Fare dell'intensità Il suo mantra Le squadre Di Tiago Motta Sono squadre Intense Anche in allenamento Ma quanto può reggere Milik Anche 60 70 minuti Mi state a dire Il primo turno De Coppa Italia Sì Giusto quelle Ma Boh Boh Guardate che Tiago Motta Ha litigato con Arnautovic Che mi sembra Che stia pure meglio De Milik Quindi non lo so Ragazzi Non lo so Non lo so Non lo so Credi che oggi Suggerà qualcosa Sembra tutto fermissimo Se conoscessi la risposta Sarei miliardario Secondo voi Oggi si sblocca qualcosa Andiamo alla settimana prossima È giovedì sera ormai Andiamo alla settimana prossima State sereni Stiamo sereni Stiamo sereni Mentre Ieri Si potrebbe sbloccare Poi chiaramente Però a Verona In quel caso Non ci sarebbe No Per me Non ci sarebbe stato Comunque Mentre ieri La Juventus Ha ufficializzato Un calciatore Pensate Ha ufficializzato Un calciatore Dopo un mese L'ultimo è stato Cabal A metà luglio Mi so pure Visto la live Che stavo con Pinelli Improvvisamente Preso Cabal Strappato all'Inter Eccetera Era Pierino Calulu Ora non li mettiamo di nuovo Kraft stai fermo con le mani Non mettere il fischietto Anche se mi piacerebbe sentirlo Non voglio parlare Gli ho già parlato oggi Della roba dell'abbio Volete parlarne voi Miguel Voglio sentire solamente Miguel Su quella roba Non hai sentito Non hai visto la polemica Io ho anche risposto Al medio ragazzo juventino Allo sciacallo medio juventino Mi verrebbe da dire Lo chiamo così Sciacallo Non so di che stai parlando Allora ieri Ti faccio veramente Un riassunto brevissimo Ieri è stato ufficializzato Calulu A me è stato detto Che colui Non Calulu Colui che si occupa Dei social di Calulu Un'azienda C'è dei professionisti I procuratori Fondamentalmente Che li curano i social Hanno messo Sull'abbio dei social Instagram Di Twitter Di Calulu AC Milan Player Oloan Juventus Player Oloan Assimila Una roba del genere Che è una roba Che è anche la verità No è la verità Come lo fece anche Brian Diaz Che era un giocatore Del Real Madrid In prestito al Milan E lì Anche i tifosi del Milan Deficienti Mi vorrebbero dire No ma tu sei un giocatore Del Milan Non devi scrivere Oh Ci si è messo di mezzo Anche Lo sciacallo Juventino Medio Ok ci siamo capiti Io gli ho risposto Per le rime Non conta niente La mia risposta Però Tanto casino Hanno fatto i tifosi Della Juve Su Instagram Insultato Dalla mattina Alla sera Sto cazzo di ragazzo Che è arrivato ieri Ma insulti brutti Insulti Non rappresenti La maglia della Juve Penna cacata Roba di glitter Dai va bene Bravissima Tanto è Che Dopo Due tentativi Andati a Mario Di uso un termine Alla marcio capa d'onda Prima c'era scritto Juventus player All alone Togliendo AC Milan E poi è diventato Juventus player Quindi ha fatto tre cambiamenti Miguel Mi fai proprio brevemente Cosa pensi di questa stronzata Se vuoi dirmi una Una tua idea Io penso Che Calulu Cioè non so se Sia stata effettivamente Un'indicazione di Calulu Di questa cosa qui No Ti posso sicurare no Ti posso sicurare no Ho parlato con chi Quali social della Juve No Allora c'è poco da C'è poco Possiamo soltanto commentare Perché magari Potevi pensare Che Calulu Comunque Sapendo Lui voleva no Perché si diceva Che lui volesse L'obbligo di riscatto E invece C'è soltanto il diritto E quindi magari Lui dice Io adesso Vado alla Juventus Però sono ancora del Milan E se un giorno Torno al Milan Comunque Faccio vedere Che io non ho mai Tagliato i ponti Con il Milan Sai potevi fare Questo tipo di ragionamento Però Se tu mi dici Se tu mi dici Che la decisione È soltanto del social media manager Allora possiamo soltanto Commentare La reazione Dei tifosi Della Juventus Di certi tifosi Della Juventus Che come al solito Si dimostrano Prevenuti Di fronte All'attuale gestione Perché Come Perché secondo me Sulla stessa onda Sulla stessa scia Delle polemiche Contro gli infortuni Di Turam e Wea Io la metto Perfettamente d'accordo Lo metto Sulla stessa scia C'è qualcosa Che magari Di sospetto In questa In questa gestione Tecnica e societaria Ah Lo vedete Non era Allegri Non era Agnelli Non era Folletti Capito E lo faranno ancora Per tutto l'anno Per cui abituati Fabio Craft e Filmora Credo che comunque Non si Non si adirino Per questo tipo Di 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 situazioni Lo dico soprattutto A te Fabio Quindi Non Facci l'abitudine Perché saremo Saremo bombardati Ma sai che io Nella merda Mi piace anche sguazzarci Perché poi Mi danno anche Mi danno il tema Mi hanno fornito Le teoria di oggi Quindi Lo vorrei anche ringraziare Da questo punto di vista No ma fai bene Io tra l'altro Sono d'accordo Combattiamo Non dico lasciamoli perdere Dico combattiamo Sì per me Non devono Non devono Prepariamoci alla lotta Certo Certo Tra l'altro Ecco la nuova La nuova Pick Di Calulu Grande notizia Ma è Player of Juventus Pura la maglietta Si è messa da Io Ha cambiato pure L'immagine Che non era del Milan Prima Era un'immagine sua Tra poco Scrive Milan merda Tra poco Sotto costrizione Grande craft Quanto mi mancai Mi metti di buon umore Mi metti di buon umore Va bene Ci andiamo ad ascoltare L'intervista Di Calulu Con Fischio Senza Sul sito ufficiale Della Juventus Voglio farvelo ascoltare Perché è interessante Il modo in cui si pone Poi ne parleremo Magari dal punto di vista Del campo Ma voglio ascoltarlo Perché mi sembra Un ragazzo intelligente E non tutti i calciatori Sono intelligenti Tipo se sia bravo Lo scopriremo Vedremo il campo Cosa ci dirà Però mi sembra un ragazzo Per me Sembrava un meme Virmone Ma mi sembra veramente Pensante sto ragazzo Vedremo Vedremo quanto Pensante Vediamo Vediamo Innanzitutto Pier Benvenuto alla Juventus Ci racconti Quelle che sono state Le tue prime impressioni In questa tua Prima giornata Qui alla Juventus Grazie Già Prima impressione Molto positiva Già Del sito E come È strutturato I campi Solo vedere queste cose Allora Molto contento E Mi sono piaciuto molto Parliamo di Calulu Difensore Ci racconti un po' Quelle che sono Le tue caratteristiche E quelli che sono I tuoi punti di forza Sul campo Le mie caratteristiche Diciamo che Sono un difensore Più moderno Che può giocare Differenti ruoli Sulla linea difensiva Giocatore veloce Aggressivo E chi piace Due lì E anche avere questa Giocare pulito Diciamo Quali sono i tuoi modelli Che giocatori A quali giocatori Ti ispiravi da piccolo? Questa domanda Me la fanno Un po' Un po' Tanto Una domanda Che in verità Quando sei Cacciatore A questo livello Segui Un po' Quello che si fa Un po' Di meglio Vuol dire Che cambia ogni anno E devi solo Vedere Alcune partite Tante partite E provare Di seguire Quelli che fanno bene E per questo Che non ho Modelli precisi Cambiano Ogni stagione Lo sai Ci racconti un po' Pierre Fuori dal campo Quali sono Le tue passioni principali? Il Pierre Fuori dal campo E un Pierre Che piace Essere a casa Che piace Molto Il cinema Andare Lì Ok Più in francese Ovviamente Ma Provo altre lingue Che piace Ascoltare la musica Che ascolti Tanto Che sia classico Un po' Più rap Un po' Più americano Un pochino Italiano Ma vabbè E poi Un ragazzo Tipo diciamo Calmo Hai già avuto modo Di incontrare Di parlare Con mister Tiago Motta Cosa vi siete detti E cosa ti piace Nel suo modo Di far giocare Le squadre Che allena Sì Ho avuto La fortuna In questi giorni E anche La fortuna Di vedere Anche prima Le sue squadre Come giocano Abbiamo parlato Tante volte E quello che mi sono piaciuto Su di lui Anche se non l'ho ancora visto Dal vivo Ma L'onesto Essere molto onesto Chiaro Su queste idee Anche perché le sue squadre Giocano bene E siamo tutti Innamorati del calcio Che si gioca Bene Allora Sono Questo qua Il mio Pensiere Oh sta roba Secondo me Non è banale Posso dire Sembra una puttana No infatti Non sta dicendo Cose banali Esatto A me Il fatto che lui dice Sono interessato Al fatto che si giochi Bene a calcio E per questo Ho approfondito Il discorso Per me non è una cosa Stupida Comunque uno Che a riflesso Cioè Quando Noi lo prendevamo Un po' per il culo Sta a pensare Però evidentemente Questo Non dico che si è visto Come uno scout Tutte le partite Del Bologna Di Tiago Se l'è studiato Il trasferimento Dai Un minimo Un minimo secondo me Mi dà questa impressione qui Non so se Michele Ha questa stessa impressione Di questo ragazzo È abbastanza riflessivo Intelligente Mi verrebbe da dire Oh Intelligente In una categoria In cui l'intelligenza Non brilla Non ti sto a dire Che è Rita Levi Montalcini Per carità di Dio Ma Non lo so Io non ho avuto Questa Questa impressione Come la vostra Non dico che mi è parso stupido Però Diciamo Non ho avuto L'illuminazione Da queste parole Mi sembra un tipo Molto calmo Questo sicuramente Molto Che pensa Molto Prima di Di agire Spero che questo Non si riveli Un difetto Perché poi Quando hai la palla Tra i piedi Devi essere veloce Di pensiero Non devi pensarci Troppo Quindi io Mi astengo Da ulteriori Valutazioni Sinceramente Queste interviste Danno Grandi indicazioni Tu verrai Sul mio carro Di Pierino Lo spero Ma sicuramente Non dopo questa intervista Giustamente Quali obiettivi Ti poni All'inizio Di questa tua Esperienza Alla Juventus Sia tuoi personali Che di squadra I miei obiettivi Al livello Della squadra E di Fare vincere Questa Questa maglia Le più partite Possibili Prendere Grazie per la sab Andiamo a cercare Di prendere ogni partita Come vengono E dare il massimo Ogni volta Che avevamo la possibilità A livello personale E anche Fare vedere Come gioco Come posso fare bene E dare Il mio massimo Ogni volta Che Il mister Va Mi Mettere Su 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 Compo Nelle nazionali Giovanili della Francia Hai già giocato Con un compagno Che ritroverai adesso Che è Chefren Turam Avete avuto modo Di sentirvi Di parlare In queste ultime ore In questi giorni Sì Ho Ho giocato Con Chefren Un paio di volte Adesso in giovanile Ci connessiamo bene Sì è vero che abbiamo parlato Anche Questi ultimi giorni Poi Secreto professionista Ma Sì Sono Sono contenti Di Rivederli Piero In chiusura ti chiedo Un saluto Per tutti i tifosi Della Juventus Ciao ciao A tutti i tifosi Della Juve Spero Di Di Vi dare il massimo Ogni Ogni volte Di Essere Orgolio E fiero Di Quanto mi vedrete Indossare questa maglia Sul campo E ci vediamo presto Al stadio Spero Ciao A posto Difficile Virmone Craft Volete dire qualcosa Su questa intervista Benvenuto Pierino Benvenuto 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 Craft Vuoi dire Vuoi dire qualcosa Ecco Sto mettendo Lo sapevo Lo sapevo Prego Commenti l'intervista Con questo sottofondo Vista No Come dice Mi Mi Si attenziona Al giocatore E poi Non si sente niente Ho tolto Ho tolto Non è Dato anche a me Quest'impressione Non ha detto cose Banali Non ha ripetuto Le solite cose Che dicono I calciatori Davanti ai microfoni Poi Ti ripeto Io tecnicamente Su di lui Non ho 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 grossi Dubbi L'unico Dubbio Per lo meno Il mio È che Da centrale Non Sai qual è Il fatto Fabio È un po' Come come Tipo di calciatore È un po' Ehm Il contrario Di Calafiori Perché Se Calafiori Con Con il fisico Che aveva Compensava Magari Non essere Cento per cento Ancora Detto ancora A suo agio Da difensore centrale Lui magari La linea La sa anche tenere Però non è un giocatore Fisicamente dominante Non è un giocatore Che sulle palle alte Sai Sono tutte sue Non è un giocatore Che Dici È un muro Qui l'avversario Non passa È un giocatore Che chiaramente Il fisico Ce l'ha È veloce Sa rompere Anche la linea Motivo per cui Ti dico A me piace Molto più Da terzino Ha i pro E i contro Ma come ce l'aveva Anche Calafiori Io lo vedo Benissimo E ti ripeto Benissimo Da terzino Vedremo Perché È proprio Michele Fassico la testa Quindi cabal Non lo vedo bene Da terzino pure io Sì sicuramente Perché secondo me Da centrale Lui tende ad addormentarsi Una difesa a due Secondo me Già in una difesa a tre Io lo vedrei meglio Però quando ci ha provato il Milan Con i tre Davo malissimo il Milan Tutto il Milan Mi ricordo Ti ricordo il derby Che perse Ma senza mai tirare in porta Per se poi una a zero Però Fece una partita orribile Il Milan a tre Anche perché secondo me Da Gatti Bremer Tiago Motta Si discosterà Difficilmente Ah 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 Eh Questo è interessante Questo è interessante Oh Magari diventa Veramente una sorpresa Oh Se ci stupisce Gioca bene Siamo pure contenti Prima qualcuno Mi chiedeva in chat Quali infortuni ha avuto Negli ultimi anni Kalulu Ve li leggo tutti 15 giorni nel 22-23 Per infortunio al polpaccio 22-23 Quindi 23-24 Un infortunio muscolare Dal 13 settembre A 19 ottobre Poi Strappo del muscolo femorale Dal 25 febbraio Dal 29 ottobre Al 25 di febbraio E poi Ha perso la stagione Per un infortunio Al delegamento collaterale Quindi sicuramente La questione fisica È da monitorare Ma Altrimenti Non ce lo davano in prestito Con diritto Ragazzi Banalmente non sarebbe La Juventus A quelle cifre lì Poi Ripeto Vediamo se verrà riscattato Se farà bene Abbiamo vinto tutti Secondo me E vedremo Vedremo È più realistico Pensare ad un ultimo Acquisto in difesa Ad un terzo esterno Secondo me Nessuno dei due Ti arrivo a dire Manca troppo poco tempo Che ne dite? Ma anche secondo me Perché ieri Pedulla Pedulla diceva Terzo esterno Per quanto Scusami Comunque Come Come contatti Per esterni Magari ne hai di più Nel senso che Ne hai cercati così tanti In questi Ultimi due mesi Che sai Magari Ti scappa il terzo All'ultimo Mentre i difensori Saltato Calafiori Saltato Tollibosa Adesso arriva Calulu Non mi sembra Un Un reparto In cui hai Così tanta Scelta Anche Anche in termini Di aver preso contatti Con procuratori Con Con le squadre Ma poi è in Bangula No Hai scoperto In Bangula Lui il terzo esterno Eh sì Eh sì Eh sì Ragazzi Ci vediamo tra un minuto E otto secondi Per quanto riguarda La piattaforma di Twitch Faccio il taglio Per Youtube Saluto Craft Miguel Virmone Ciao ragazzi Io torno subito E vado al bagno Yes Ma non c'era bisogno Di dirlo Altrimenti la gente Adesso Chissà cosa farà In questo minuto Zero Cosa cucinerà In bagno Cosa cucinerà Va bene Cara Youtube Domani Editoriale di 10 Che sarà una editoriale Molto diverso Anche se come è Abbastanza divisivo Quindi tenetevi pronti Lasciate un like Un commento Attivate la campagna Notifiche E la bianchina channel Su Telegram Ci vediamo tra un minuto E otto secondi Su Twitch Va